La procura Iblea ha avviato un'inchiesta sull'incidente ferroviario che ha coinvolto questa mattina a Vittoria un autobus e un treno regionale che viaggiava sulla tratta ferroviaria Caltanissetta-Modica. Lo schianto si è verificato sul passaggio a livello che attraversa la periferia di Vittoria nei pressi della Fontana della Pace e per fortuna non ha fatto registrare vittime o feriti. Solo il conducente dell'autobus è rimasto lievamente ferito all'occhio prima che riuscisse a far scendere per tempo gli unici quattro passeggeri dell'autobus che era partito da Comiso. Per cause da accertare l'autobus è rimasto di traverso sul passaggio a livello incastrato sui binari prima che si abbassassero le sbalre di protezione. Il macchinista del treno in transito alla vista dell'autobus di traverso ha fatto quel che poteva per limitare i danni, centrando comunque in pieno il mezzo. Trascinato per oltre 300 metri dal punto d'impatto, il traffico veicolare è andato in tilt per alcune ore. Sono intervenute le forze dell'ordine, vigili del fuoco e ambulanze. Come accennato, indagini sono state aperte dalla procura per accertare le cause dell'incidente che avrebbe potuto comportare conseguenze ben più pesanti. Scossi ma illesi i quattro passeggeri, tutti i braccianti agricoli fatti a scendere dall'autobus prima dell'impatto con il treno, mentre l'autista è stato trasportato all'ospedale Guzzardi per la medicazione dell'occhio e del volto investito da schegge e detriti a seguito dello scontro. L'autobus, dopo tutti gli accertamenti di rito, è stato rimosso questo pomeriggio con l'intervento di un autogru dalla ditta Giblas Trasporti Modica. Dalle documentazioni fotografiche si evince anche che il passaggio a livello era chiuso e nonostante ciò il bus si è trovato nell'area interdetta al transito rimanendo incastrato. I passeggeri, tutti ovviamente in stato di shock, sono stati affidati alle cure mediche. Grazie a tutti.